Ed eccoci ancora una volta insieme, l'azienda che ci apre le porte e Kia Startup, Borgaro Torinese, benvenuti nel mondo Kia Motors, in compagnia del responsabile dell'azienda, Davide Marano. Grazie per essere qui con il nostro pubblico. Ciao Stefania e ciao a tutti. Allora Davide, devi sapere che ci aspettiamo tantissimo dal marchio, dal brand Kia Motors, ovviamente una gamma di vetture in grado di soddisfare ogni esigenza, ma ci aspettiamo moltissimo da voi, da questa azienda che ci ha abituato a straordinarie promozioni esclusive. Ma direi di partire dall'indirizzo, quartier generale. Esatto, partiamo dall'indirizzo, via Lanzo 29, Borgaro Torinese. Bene, memorizzate questo punto di partenza per incontrare la gamma Kia Motors a partire da Niro. Ovviamente grande attenzione per la gamma ibrida, perché Davide? Beh, guarda, io dico ai miei clienti, anzi ai miei futuri clienti, non fatevi trovare impreparati. A settembre blocchi nel traffico, nessun problema. Kia Niro, ibrida, venite a scoprire l'offerta vantaggiosa. Solo da noi fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Avete capito bene? 5.000 euro. Bene, devo dire che Niro in anteprima vi propone tutti i vantaggi della gamma hybrid. Venite a scoprirlo. Adesso ti cedo il microfono, ci porti a spasso nel salone. State con noi. Bene, partiamo da Picanto. 8.900 euro, rottamazione, vettura in pronta consegna, 1.000 benzina. La Huawei bianca ce l'ho, la Huawei nera ce l'ho. La Huawei GPL, 1.500 euro in più e ce l'ho in pronta consegna. Ricordiamolo, 7 anni di garanzia. Tutta la gamma, 7 anni di garanzia in pronta consegna. Vogliamo fare un esempio di rata? 149 euro al mese, tutto incluso, tagliandi e gomme. Venite a scoprirla. Kia Stonic, una delle ultime nate. Possibilità di averla bicolor, GPL, benzina oppure turbodiesel. Pensate che sul pronta consegna turbodiesel possiamo arrivare fino a 4.000 euro di sconti. Ricordiamo che questi 4.000 euro di sconto sono solo da Kia Start. Bene, parliamo della regina del marchio Kia. Io vorrei dire una cosa. Parliamo di 7. Il numero 7 è un numero che ci piace. 7 anni di garanzia, solo 7 vetture in pronta consegna. Con 7.000 euro di sconto rottamazione. Venite a scoprire i colori e i modelli che abbiamo in pronta consegna. Parliamo di Kia Rio. Offerta esclusiva. Vetture in pronta consegna. Proprio questa qua. Turbodiesel con rottamazione 11.600 euro. Ricordatevi che questa è un'offerta esclusiva. Kia Start via Lanzo 29, Borgolo Torinese. Parliamo di Kia Seed. Parliamo di chilometri zero. Perché anche la Kia Start non mancano appunto i chilometri zero. Seed. Parliamo di percentuale. 35% di sconto dal listino. Venite a scoprire offerte, modelli e motorizzazioni. E noi proseguiamo in compagnia di Davide Marano con la nostra visita nei saloni di Kia Start a Borgolo Torinese. Ora scopriamo insieme le proposte d'occasione. L'usato che Davide e il suo staff ha ritirato, selezionato, controllato, all'occorrenza, ricondizionato. Presente tutte le gambe di tutti i marchi più importanti. Da Nissan, Toyota, i SUV. Le vetture più richieste. Ma noi abbiamo selezionato una vettura in particolare. Una bavarese. Ma guarda, esattamente. BMW serie 118 M Sport. 36.000 chilometri. Vettura splendida. Introvabile. Fare lo xeno. Navigatore. Cerchi in lega. 36.000 chilometri. Prezzo bassissimo. 18,990. Venite a scoprirla. Come promesso, un mese eccezionale. Un mese da non perdere. Qui a Borgolo Torinese, in via Lanzo 29, vi aspetta Kia Start. Il posto giusto per entrare nel mondo Kia Motors, lo ricordiamo. Un mese eccezionale grazie alle vostre offerte esclusive. Esattamente. Parliamo di sempre nuova. È una formula finanziaria fantastica. Tutto incluso. Potete pagare la macchina tre anni, quattro anni, cinque anni e poi sostituirla. Venite a scoprirla. Avete potuto toccare con mano la competenza, la professionalità di Davide Marano. È a vostra completa disposizione e contraddistingue un po' tutti gli uomini che fanno parte dello staff di questa azienda. Proveranno sicuramente a trovare la soluzione su misura in base alla vostra esigenza. Ci fai qualche altro esempio, qualche altra offerta? Ma allora, parliamo soprattutto anche, oltre alle offerte, il test drive, che per il marchio Kia è una cosa fondamentale. Venite a provare la Niro, soprattutto, ibrido, come abbiamo detto in apertura. Venite a provarla su strada e scoprirete una cosa fantastica. Bene, surprise ovviamente. Questa è un po' la parola d'ordine in casa Kia Motors. I vantaggi sono tanti, i sette anni di garanzia, non soltanto la possibilità di provare su strada il prodotto, le offerte le abbiamo detto, e poi mi permetto di consigliare i nostri amici che vogliono un'auto in pronta consegna, anche se si tratta di una delle più richieste, delle più vendute, come lo Sportage, in questo momento c'è qui a Borgaro Torinese, ma occorre affrettarsi. Non soltanto azienda, servizio completo, service a vostra disposizione, così. Esattamente, service, assicurazione, finanziamenti, noleggio, tutto qui da noi. Ricordiamo allora, grazie a Davide Marano, grazie a tutti i colleghi che saranno a vostra completa disposizione, Borgaro Torinese, via Lanzo 29, da lunedì al sabato. Esattamente, due passi da Torino, Borgaro, via Lanzo 29. Voglio ricordare, concessionario ufficiale ed esclusivo per la zona Torino Nord, Kia Start. Grazie a Davide Marano, responsabile dell'azienda, alla prossima in TV. Grazie a te e ciao a tutti. Alla prossima, amici. Alla prossima, amici.